Si è accorto che il tetto della struttura stava cedendo, ha tentato di fuggire, ma è rimasto schiacciato dalle travi. È stato individuato, dopo 12 ore di ricerche, il corpo senza vita di Michele Patera, 38 anni, l'uomo morto sabato pomeriggio, a seguito del crollo del solaio di un capannone abbandonato, nella zona del quartiere fieristico di Foggia. Per estrarre il cadavere dalle macerie, i vigili del fuoco sono stati costretti a scavare a mani nude, una precauzione che ha evitato il cedimento anche delle quattro pareti laterali, nonché del pavimento che al piano interrato ospita gli scantinati. Il corpo era pochi metri dall'uscita, particolare questo che lascia presupporre che la vittima abbia tentato di fuggire prima di essere travolto dalle travi del solaio. Secondo quanto raccontato dai familiari, Patera si trovava nella struttura per dare da mangiare ai cani randagi, anche se la gente del posto sostiene che di animali nella zona ce ne siano davvero pochi. All'interno del capannone, che anni fa ospitava una concessionaria di autovetture, i vigili del fuoco hanno trovato e sequestrato una bombola di gas, un tubo di gomma con un cannello e una scala di ferro. Gli investigatori sostengono che questo materiale viene solitamente utilizzato da chi estrae ferro dalle travi dei cassolari abbandonati. Solo un'ipotesi al momento al vaglio degli inquirenti, secondo i quali il tetto potrebbe essere crollato a causa del taglio di alcuni tiranti in ferro che sorreggono il solaio. Il capannone è stato posto sotto sequestro, mentre la procura ha avviato le indagini affidate agli uomini della questura di Foggia per stabilire i motivi della tragedia. Sarà invece l'esame del medico legale ad accertare le cause della morte dell'uomo. Solo un anno fa, nella stessa zona, un clochard romeno perse la vita mentre tentava di rubare rame, mentre due anni fa, un senza fissa dimora originario della Basilicata, morì nel crollo del muro di una masseria abbandonata nelle campagne tra Foggia e Borgo Cervaro. Grazie. Grazie.